Anzitutto vorrei ringraziare gli azionisti di questa società che hanno messo a disposizione le risorse per la trasformazione della fortezza nel prossimo quinquennio. I lavori del Bella Vista partiranno a metà di questo anno e poi ci saranno tutti gli altri a seguire. Intervento sul liceo, sul Cavaniglia e poi anche lo Spatolini che è una struttura bella e importante ma che necessita di interventi. Quindi anzitutto grazie a loro perché in questo quartiere firistico che è piccolo però abbiamo l'eleganza. Avete visto la ristrutturazione del Palazzo degli Affari, se immaginiamo di mettere in campo questa cosa anche per quanto riguarda Cavaniglia e altro, abbiamo cose belle in questa città ed è una città bella e quindi bisogna fare cose belle. Quando iniziano proprio fisicamente i lavori? I lavori in fortezza inizieranno con il padiglione Bella Vista da 2500 posti dopo Pitti e dell'edizione estiva. Quindi si presume intorno a mesi di luglio e si presume che il complesso dei lavori durerà 5 anni perché era previsto un piano 2018-2023. Poi avete visto c'è stato il Covid e tutto quello che è sarà immaginiamo 2023-2028.